Il primo semestre del 2016 per gli incassi del Casinò di Sanremo chiude in linea con lo scorso anno. Il bilancio semestrale degli introiti si attesta infatti a 21 milioni e 500 mila euro, cui vanno aggiunti i risultati del gioco online sempre in crescita. Bene le slot machine che chiudono con 16,44 milioni, nonostante da gennaio a maggio, siano stati elargiti più di 2 milioni e 100 mila euro in vincite. Il mese di giugno in particolare registra la buona performance dei giochi americani e la crescita delle slot machine, che totalizzano circa il 4% in più rispetto allo stesso mese del 2015. La roulette francese, così come la poker room, hanno risentito in questo mese non solo delle numerose vincite erogate, ma soprattutto dell'assenza del torneo WPT tenutosi nel giugno 2015 quest'anno, anticipato invece ad aprile. Un mese quindi non brillante, che però ha elargito oltre 400 mila euro in premi nelle sale slot. I giochi tradizionali saranno interessati nei prossimi mesi da una serie di importanti novità. Molte saranno strutturali e di organizzazione delle offerte di gioco. L'opera di macchiaggio tecnico e artistico permetterà poi di ridonare splendore agli arredi già eleganti, ma soprattutto di presentare ai visitatori ambienti rinnovati e particolarmente accattivanti. Il gioco elettromeccanico dispenserà per quest'estate nuove macchine tra le più innovative, per una proposta di gioco moderna ed esclusiva. il gioco elettromeccanico accusa della scura